Abbiamo avuto due anni di piozza, abbiamo avuto ospiti da Roma, voi sapete che la Roma c'è con te e anche spazzate con te, con un po' lento del nostro dire per quanto riguarda la parte culturale dell'economia è la possibilità per i vini o un pastiche, io non amo dire vini pastiche perché non è che l'uomo si appastisce, è l'uomo si appastisce e poi qualcuno ha dato il nome che ha scritto anche, almeno non penso sia un'interpretazione corretta dell'italiano parlato da Firenze o da Siena.